Per evitare che Italia Viva tolga l'appoggio al governo, Giuseppe Conte deve chiedere scusa e ritirare la proposta di una cabina di regia per la gestione dei fondi europei. Lo ha dichiarato in un'intervista al Paese il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, avvertendo che, in caso contrario, i numeri per una nuova maggioranza potrebbero esserci. A una domanda su un'eventuale data limite per risolvere la crisi, Renzi ha affermato che dipende da Conte, deve trattenersi, chiedere scusa e ricominciare l'ex premier ha risposto credo di sì all'intervistatore che gli chiedeva se ci fossero i numeri per eleggere un nuovo esecutivo ma, ha aggiunto, prima di arrivare a questo, mi piacerebbe che il presidente del consiglio recuperi la tranquillità e venga in Parlamento per cambiare tutto. Paragonando l'atteggiamento di Conte alla richiesta di pieni poteri avanzata a suo tempo da Matteo Salvini, Renzi ha affermato che la differenza tra i due è che il leader legista li aveva domandati in costume da bagno e con un mojuito in mano, mentre il premier lo fa in giacca e cravatta dentro un ufficio. Grazie. 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 Grazie.